Musica Mercoledì 13 novembre 2019, buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di Fano TV sul canale 17, tra poco i giornali, priva il santo del giorno, le previsioni del tempo e andiamo dunque con ordine, partiamo dal calendario, il calendario di oggi ci indica un santo che, che cos'è? Sab? C'è un errore probabilmente, ma io al di là di questo santo di cui non so granché, però vorrei ricordarvi che oggi ricorre l'anniversario della morte di un santo che invece conosciamo molto bene noi qua a Fano, ovvero San Paterniano. San Paterniano è il patrono della città e morì all'incirca, intorno al 360, dopo che lui si era ritirato qui nelle campagne attorno, anche perché quella volta c'erano le persecuzioni ai cristiani, quando i cristiani venivano perseguitati, uccisi, lui si ritirò, poi quando tutto finì e il cristianesimo in qualche modo era tollerato, all'inizio soprattutto, allora fu riportato in città. Morì il 13 di novembre, come oggi, nel 360 e quindi lo ricordiamo, anche se Fano lo celebra come patrono il Comune il 10 di luglio. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, il cielo oggi sarà nuvoloso, soprattutto al mattino, avremo deboli fenomeni residui in mattinata e poi nel pomeriggio ancora potranno interessare localmente queste precipitazioni il settore meridionale della Regione. Per quanto riguarda giornate di domani, giovedì, ancora pioggia, soprattutto nel settore centro-meridionale della Regione, anche se sarà debole, di debole intensità, mentre venerdì torna il cattivo tempo un po' dappertutto, come vedete sparse le precipitazioni anche intense, soprattutto nel pomeriggio. Ancora tempo instabile, poi nel fine settimana. Tante sono le notizie, tanti titoli d'apertura, ma anche i titoli nelle pagine interne dei due quotidiani, il Corriere Adriatico, il resto del Carino, il Corriere che apre l'edizione di Pesaro con lo slittamento del trasloco della Questura, l'accordo è scaduto ormai da mesi per la sede all'ex intendenza, il protocollo va rifatto sul piatto oltre 6 milioni di euro, il rebus dei ponti sul Foglia, per l'opposizione della struttura a Tombaccia si può fare, il Comune riscuota le fideiussioni, rallenta l'iter per quello alla foce, la piccola nautica avvisa, lì sotto le barche non passano. La classifica delle imprese, invece, marchigiane, la troviamo e la troverete sulle pagine interne del Corriere Adriatico, dopo gli daremo un'occhiata, c'è una lista, c'è una classifica delle imprese che hanno ancora il segno più che è importante nelle vendite, e poi la cronaca con 5 persone, 5 mariti e compagni violenti, sono scattati arresti e denunce, il codice rosso, dopo gli esposti presentati dalle donne vittime di questi maltrattamenti, le indagini hanno portato ad allontanamenti e divieti. Questa è la prima pagina del Carrino di Pesaro, Caritas, il grande pranzo per i poveri, domenica l'iniziativa in via del teatro, chi partecipa, offre un contributo all'ente, coinvolte anche le parrocchie, a centro pagina sfida mondiale, kickboxing, Jordan Valdinocci tenta l'impresa a Tokyo, ma si parla anche del duello in televisione di Matteo Ricci, che parla anche di elezioni regionali, Ricci si tira fuori, io faccio il sindaco, Confindustria, il trend, mobile in calo, invece cresce la produzione dei semilavorati, due milioni invece dalla regione, dopo dieci anni sbloccati i fondi per ripulire il torrente genica. L'edizione di Ancona, a centro pagina, il terremoto in comune, ora spuntano anche strane coincidenze, appalti e sospetti. Di taglio alto qua sopra il lutto che ha colpito la trattoria Mezzavalle, dove è morto Moresi, lo storico titolare. La pagina di Macerata, invece, il soldato nella neve, cerimonia al Sacrario, Ivo Pianesi, che racconta la ritirata in Russia. Ma c'è anche la cronaca, un'indagine della Polizia Postale, ragazze filmate con il cellulare di nascosto in bagno, un diciottenne è finito nei guai perché il video è diventato virale, cioè adesso ha fatto il giro dei telefonini, di Whatsapp. La pagina di Fano, o meglio di Pesaro, del resto del carriero, questa mattina si sofferma sulla questione dell'atleta di Fano, ovvero l'esippo che è conteso, probabilmente, anche da Pesaro. Almeno la nascita del nuovo comitato non è piaciuta a tanti, a Fano, ma non è piaciuta in particolare all'ex assessore della cultura Stefano Marcheggiani, che dice che senso ha fare un comitato a Pesaro se c'è già quello di Fano. È un tentativo di scavalcare Fano, si domanda a Marcheggiani, con l'esippo che passa di mano da Fano a Pesaro. Marcheggiani poi pone una questione politica. Il punto è la totale inattività dell'assessore della cultura, come su altre questioni, come Sant'Arcangelo o Fabbrica del Carnevale. Anzi, dice Marcheggiani, direi che sono completamente fermi, sia la cultura sia il turismo. Ma il sindaco di Pesaro ricci sull'adesione alla raccolta di firme, perché il comitato che è appena nato ha chiesto di firmare una petizione, e il sindaco di Pesaro dice, certo, se serve, io firmo volentieri. La stessa cosa ha detto il sindaco di Urbino, che è appunto favorevole a questa raccolta di firme, questa petizione internazionale lanciata attraverso un portale, che si chiama change.org, ed è una delle tre iniziative lanciate da questo neocomitato pesarese. Le altre sono il sito lisippoitaliainitalia.it, poi il crowdfunding per la raccolta di soldi, per fare un documentario sull'opera d'arte, eccetera, e poi social network, Instagram. Quindi tutte iniziative prodotte da questo nuovo comitato. Violenze in famiglia. Cinque denunce. Le indagini hanno coinvolto tre italiani e due stranieri, dopo le segnalazioni delle rispettive compagni ed ex mogli. Attuato il codice rosso dalla polizia, a carico degli indagati un arresto, allontanamenti e divieti di avvicinamento. E poi sul commissariato di primo livello, la nuova Fano si rivolge al prefetto La Polla, sede della Questura in provincia. Donne umiliate percosse, allarme rosa in città, cinque uomini nei guai, ne parla anche il resto del Carlino, mentre qui, sempre in prima pagina, non si ferma all'alte, tira dritto, giallo sui motivi della fuga, la corsa di un giovane trentenne, residente a Fano, ma originario di Cattolica, che è terminata questa corsa in un'area di servizio della Litoranea. In passe sul ristoro Oda, siamo di nuovo a Pesaro, e il tempo scorre, la curia di Pesaro non si muove, l'imprenditore Denis Sansuini, che è titolare di una ditta, si chiama Cimas, che ha sede in Urbania ed è già presente a Pesaro con un self-service in Via Verdi, è pronto a raccogliere l'appello che è stato lanciato dal giornale per salvare il ristoro dalla chiusura, ebbene, lui però dice non ho avuto nessuna risposta, è vero che non ho avuto, non ho preso appuntamento formale, diciamo così, con la diocesi di Pesaro, però Sansuini dice o alla diocesi non sono convinti della proposta oppure hanno già risolto il problema. Ma intanto nella seconda pagina del Carlino si parla della Caritas, Pranza con noi, un'iniziativa che mobilita la città, domenica è la giornata della povertà, la giornata dedicata ai poveri, e c'è questo grande evento solidale per i poveri che si terrà in Via del Teatro nella sede della Caritas. C'è posto per 150 persone, ci sono anche altre iniziative attivate dalle parrocchie. Ad Acqualagna la fiera da record, soprattutto per quanto riguarda le presenze, la 54esima fiera nazionale del tartufo bianco che si è chiusa con un bilancio più che positivo, in questa fotografia vedete il sindaco Luca Lisi con l'imprenditore fanese Giancarlo Paci, il titolare della Profil Class, mentre hanno di fronte questo splendido esemplare di tartufo. Luca Lisi diceva che fa il bilancio, dice che si consolida il lavoro di squadra fatto da tante persone con passione. Mentre a Fossombrone Bonci dice che la maggioranza è pretestuosa, il sindaco se la prende con le tattiche politiche del consigliere Chiarabilli, che è stato anche ex vice sindaco quando era in maggioranza. Torna l'aria di sapori e aromi d'autunno, dalle pagine di Fano del Carlino, saranno più di 100 le aziende che partecipano quest'anno alla Kermesse con prodotti del territorio, un'immersione nel gusto, formaggi di fossa, pecorini, tartufi, vini, salumi e tantissimo altro. Questo nelle due domeniche del 17 e del 24 novembre, sempre nella solita area del Codma di Rosciano. Abbiamo parlato e abbiamo ricordato oggi della morte, dell'anniversario della morte di San Paterniano. Ebbene, a San Paterniano un benefattore ha regalato queste tre splendide campane che hanno un nome, fede, speranza e carità. Con loro, con queste tre campane, si completa la scala musicale che risuona dall'alto del campanile. Per sentirle però bisognerà attendere il 10 di luglio quando appunto sarà la festa del patrono di San Paterniano. Nel frattempo saranno esposte nella Basilica per tutti coloro che vorranno vederle. Oggi tra l'altro verranno, credo, nella giornata di oggi, benedette e ci sarà anche una messa con il Vescovo. Per quanto riguarda invece l'allevamento di polli a San Lorenzo in campo, il sindaco Dell'Onti rassicura, anche perché c'è ancora un po' di polemica, ma Davide Dell'Onti dice che non è stato deciso nulla in maniera definitiva. Nei giorni scorsi era intervenuto anche Fileni, il titolare dell'ammonima azienda di Iesi, marchigiana, che ha investito molto su questo settore e tanto sta facendo, che ha voluto tranquillizzare i residenti, ma soprattutto i componenti del comitato che si batte per il no a questi capannoni per l'allevamento dei polli. Mentre a quella tribuna è priva di sicurezza, a Mondolfo, c'è una polemica sui lavori di ristrutturazione del campo sportivo e c'è questo intervento che viene pubblicato questa mattina di Mancini del Partito Democratico. Da Pesero, l'accusa di un bimbo di otto anni sono stato toccato dal compagno di mamma. L'episodio è giunto all'orecchio del padre che ha sporto denuncia, ora si deve decidere se il piccolo potrà essere sentito in tribunale. Ancora storie di letto sulle pagine interne, qui siamo su Urbino, il provincio del Carlino, aggredì l'ex moglie e il compagno, è stato condannato a tre anni e otto mesi, un 45enne di Cantiano che lo scorso luglio fece irruzione nella camera da letto dei due. L'uomo risponderà anche di calugna, disse che lei gli mandò due albanesi, mentre ricattava l'amante, o stai con me oppure di fondo le foto hard, però il gruppo lo assolve. La donna si era impaurita anche per la richiesta di soldi, ora però è tornata insieme al marito. Diciamo che dopo la richiesta di accedere al rito abbreviato condizionato da parte della difesa, tutti e due sono stati riascoltati, entrambi hanno abbassato i toni, la donna che ha ridimensionato il fatto, ammettendo che si trattava probabilmente più di un gioco tra ex amanti che di una richiesta vera e propria di soldi, eccetera, eccetera. Dopo che il reato contestato è stato derubricato, ha intentato violenza privata, il pubblico ministero ha chiesto la soluzione per l'imputato, poi accordata dal giudice. Le altre pagine, andiamo a vederle subito, questa è quella di Urbino, l'archivio storico di Miss Italia ha donato all'università della città, poi sotto si cerca il fantasma di Raffaello, tanto nei palazzi quanto sottoterra, e l'altra pagina, invece del resto del carino, di Senigallia, la cronaca, con un inseguimento per 10 km e 180 all'ora, una folle corsa di un trentenne che in via Raffaello Sanzio non ha rispettato l'alt della polizia e si è più volte, in questo caso, rischiata la tragedia. Cani maltrattati, cavalli liberi in strada, doppia operazione di polizia e carabinieri, nel primo caso il proprietario degli animali è stato denunciato. Sapore ai Romi d'autunno lancia il Festival della Pasta, consolidata a Kermessa e il Colma dal 17 al 24 novembre, e con l'estate la novità. Mentre sotto, sul Corriere Adriatico, guardate questa foto, praticamente le strisce pedonali che finiscono contro un albero. È una lettera condivisa dall'Associazione Genitori e Figli con Portatori di Handicap e del Comitato Lido Arzilla che lanciano una sorta di ultimatum al Comune di Fano. Dalla Val Metauro, crisi idrica, servono più investimenti prima di usare le acque di profondità. Il Forum Provinciale dei Beni Comuni punta l'indice sull'attuale gestione mista a modernare le reti con gli utili. E poi il Sindaco di Fano, Massimo Seri, che è andato a festeggiare i cento anni di Zenilde Sorcinelli, la nonnina del vallato che appunto ha compiuto cento anni. Poi per quanto riguarda invece la palestra che ha problemi con infiltrazioni d'acqua, l'Olimpia trova una nuova sistemazione. Al Nolfi, la società di ginnastica dunque si trasferisce da Cucurano di Fano al Nolfi, Nicolelli dice resta comunque il disagio. Pronto il nuovo campo sportivo a Mondolfo è il dono della giunta alla città. Sabato ci sarà l'inaugurazione alla presenza degli studenti, della banda e delle autorità. Mentre sempre a Mondolfo un georadar con delle sonde sulle strade per la fibra ottica. Inizia la fase preliminare e c'è grande curiosità per la presenza di questi tecnici in strada. Andiamo ancora avanti con la rassegna stampa e questa volta siamo sulla pagina ancora di Senigallia del Corriere. Missione a battere l'ex Politeama c'è da superare il nodo del vincolo. Il sindaco Mangialati dice ho già chiesto al ministro Franceschini di rimuoverlo quello scempio deve sparire. Una lite tra fidanzati crea il panico in centro. Sempre a Senigallia erano dentro un negozio allarme in piazza Roma arrivano polizia e 118. Due cavalli in strada le auto fanno lo slalom scappati da un maneggio e recuperati dai carabinieri. Il proprietario è stato multato. Sempre da Senigallia fugge sulla statale a 200 km all'ora una volante gli sbarra la strada da un trentenne alla guida di una BMW fermato dopo un inseguimento da Senigallia a Marotta temeva di essere ubriaco. Mentre questo è uno dei fermo immagine del recinto in cui erano messi questi cani da caccia scoperti dalla polizia in un giardino del quartiere delle Saline con l'aria elettrica per questi cani. un cacciatore è stato denunciato per maltrattamenti di animali vivevano in box sporchi e anche stretti angusti droga nel residence dopo la strage due imputati di spaccio arrestati la mattina seguente con il 17enne sospettato e poi scagionato per la lanterna. È un faccia a faccia con il giudice per quanto riguarda i due ragazzini arrestati in un residence in Senigallia all'alba dello scorso 8 dicembre assieme al 17enne in un primo momento sospettato di essere coinvolto nella strage della lanterna azzurra poi scagionato. Il ponte fantasma sul Foglia qui siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere c'è un milione da riscattare report dell'opposizione sulla mancata realizzazione al suo posto c'è una ciclabile pericolosa il comune riparta dalle due fiduzioni di Mulazzani ed RP Costruzioni e integri le spese ma c'è chi se la prende con questo ponte che dovrebbe essere costruito la foce del fiume Foglia che lo contesta in qualche modo intanto questo è un rendering non è la foto ancora deve essere realizzato perché? Perché dicono che sia più basso delle vele dunque le barche non potrebbero nel caso non potranno passare nel caso in cui verrà realizzato così come lo vedete nella fotografia la piccola nautica boccia infatti questo impianto del ponte alla foce del fiume Metauro 5 scuole video sorvegliate arrivano altri 6 targa system l'intervento affidato alla Tecnotel per 40.000 euro sempre a Pesaro coinvolti gli istituti del campus il Mengaroni ed anche il Perticari per la nuova questura si ricomincia scaduto l'accordo da 6 milioni di euro l'intesa sul trasferimento all'ex intendenza è da rifare e prima bisognerà effettuare controlli sulla vulnerabilità sismica puntate sulla ricostruzione e ripartirà tutta l'economia Orsini a Pesaro fa il punto sulla filiera legno arredo a colloquio con Scavolini e Guzzini la Caristas risponde sia Papa Francesco il pranzo gratuito per chi ne ha bisogno nell'occorrenza nell'occasione sarà inaugurata la mostra Mai Senz'altro senza l'altro con i disegni di bambini la prenotazione per partecipare però è necessaria attenzione perché oggi gli uffici Aspes sono chiusi aperto solo lo sportello per gli impianti termici a causa dei lavori sulla linea elettrica realizzati da Enel che determineranno l'interruzione della fornitura di energie elettriche nella giornata di oggi gli uffici Aspes in via Mammeli 15 a Pesaro saranno chiusi per tutto il giorno lo sportello in pianti termici sarà invece aperto al pomeriggio dalle 15 alle ore 17 e adesso parliamo e andiamo qui nella pagina delle Marche del Corriere l'economia è debole ma stazionaria soffre il cratere dove ci sono le aziende interessate dal terremoto con meno 5% i primi sei mesi del 2019 sono stati fotografati nel report di Banca Italia un quadro un quadro che interessa tutto il paese l'occupazione è in calo ma vediamo i 500 big che continuano a crescere la guerra dei dazi però mette il freno la fondazione Merloni stila la classifica delle imprese sul podio sono ancora Ariston Tods EBS e anche la Profilglass di Fano impennata nelle vendite del più 16,5% allora guardiamo velocemente fatelo anche voi magari se siete interessati questa la troverete sul Corriere Adriatico di oggi la top 10 delle imprese marchigiane al primo posto con un più 5% c'è la Ariston Thermo Spa seguita al secondo da Tods quello delle scarpe SPA con un meno 2,4% il resto è tutto con il segno più quindi a parte Tods che perde un 2,4% il resto è tutto con un segno più c'è al terzo posto l'ABS con più 7,3% Conad Adriatico con più 14% i magazzini Gabrielli più 8,5% al quinto posto al sesto l'Acra Faspa la prima azienda fanese la incontriamo al settimo posto con un più 16,5% e ad occhio a parte la Diba che è un'altra fanese con il 26,9% in più rispetto evidentemente all'anno precedente si piazza al 19% ma devo dire che ha un segno più ha un valso notevolissimo dicevamo poi c'è Elica Fileni di cui abbiamo parlato leader nel settore appunto della produzione allevamento dei polli più 16 e 0,1% insomma tanti altri come vedete nel grafico delle aziende top 10 ancora dai quotidiani un imprenditore questa è la cronaca un imprenditore fermano che è stato che è sotto scorta perché hanno tentato di rapirlo per un appalto ha pestato probabilmente i piedi ad un boss della malavita mettendo l'occhio e poi vincendo un appalto che però faceva gola al clan locale così una delle organizzazioni criminali che operano nel sud se l'è legata al dito ed ha organizzato una spedizione armata per rapinarlo o forse addirittura rapirlo un noto imprenditore del fermano è da qualche settimana sotto sorveglianza speciale da parte della polizia che è riuscita a sventare in extremis un attacco armato nei suoi confronti e poi si parla del cavolo a Fano ci sono tanti agricoltori che producono cavoli e quindi è stata una stagione importante anche se il raccolto è stato anticipato di un mese perché l'autunno è stato caldissimo l'estate è stata infinita ettari però e produzione in calo giù anche i prezzi 0,66 centesimi al chilo velocemente da Vallefoglia bello romantico e ora archeologico il nuovo itinerario attraverso sette città presentato il terzo progetto turistico ideato da Confcommercio Varotti dice così si promuove il territorio Urbino gruppi consigliari uniti per l'ITIS Gambini lo difenda dal Benelli ordine del giorno votato all'unanimità ma Fermignano si Fermignano si stringe attorno alla famiglia del Canut così era chiamato Bruno Clementi morto a 92 anni a Fermignano il portierone uno dei portieri più bravi più grandi degli anni 50 60 che l'entroterra pesarese potesse originare oggi alle 10 e 30 questa mattina alle 10 e 30 il funerale appunto di Bruno Clementi che lascia i figli Mimmo e Lallo sono le 7 e 25 ci fermiamo qui questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata vi ricordo che questo è il numero per le vostre segnalazioni e che questa sera alle 20 e 30 c'è il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci